Buongiorno a tutti, allora proseguiamo, proseguiamo con le bollettine del gigione ricordandovi sempre il rituale della felicità che è importante. Comunque ripeto, basta che andate su internet e scrivete il rituale della felicità, vi appare la foto così potete guardare. E' importante perché magari alcune cose potreste anche seguirle, non è obbligatorio seguirle tutte, però possono aiutare. Comunque ragazzoli, bollettina numero due, seconda serie, quattro altre partite della Conference League, gare di ritorno, partiamo subito con la bolletta delle FIS. Allora ho scelto Petro Cub, Floriana, Riga, Darry City, B36, Borac, Sligo, Bala. Sono tutte partite intorno alle 19, 18 e 19, perché si passa dalle 16 e 17, poi 18, poi 19, 20 e 21 e poi fino alle 21 e 15. Comunque sono partite tra le 18 e le 19. Quindi partiamo subito con la bolletta delle FIS, poi naturalmente voi potete mettere qualche doppia, non è obbligatorio. Io purtroppo è la bolletta delle FIS, quindi Ligio, devo metterle FIS. Quindi partiamo, Petro Cub, Floriana 1, Riga, Darry City 1, B36, Borac 2, Sligo, Bala 1, o Bola, Bola, Bolo, quello che è, con 5 euro se ne vincono 46,75. Bollettina numero 2. Petro Cub, Floriana, Multigol, Casa 1, 3. Riga, Darry City, Multigol, Casa 1, 3. B36, Borac, Multigol, Ospite 1, 3. Sligo, Bala, Multigol, Casa 2, 4. Con 5 euro se ne vincono 18,05. Bollettina numero 3 con un'opzione. Perché poteva anche andare bene così perché eravamo già cinque volte la posta, però vi ho messo lo stesso, un'opzione perché chiamava. Comunque, Petro Cub, Floriana 1, x più over. Riga, Darry City, 1, x più over. B36, Borac 2, più over. Sligo, Bala, 1, x più over. Con 5 euro se ne vincono 26,43. Come sempre gli over sono over 1,5. Bolletta alternativa. Magari uno è goloso, siete golosi, volete vincere di più. C'era questa qua che proprio chiamava giocami fissa, giocami fissa, piover, che fa libidine. E ci proviamo. Petro Cub, Floriana, 1, x più over. Riga, Darry City, 1, x più over. B36, Borac, x 2, più over. Sligo, Bala, 1, più over. Con 5 euro se ne vincono 34,64. Bollettina numero 4 che a me fa libidine. Petro Cub, Floriana, gol ospite. Riga, Darry City, gol ospite. B36, Borac, gol casa. Sligo, Bala, gol ospite. Con 5 euro se ne vincono 23,19. Bollettina numero 5. Petro Cub, Floriana, gol piover. Riga, Darry City, gol piover. B36, Borac, gol piover. Sligo, Bala, gol piover. Con 5 euro se ne vincono 148,99. Però attenzione che Petro Cub, Floriana e Riga, Darry City, il gol piover non è favorito. Quindi o vi giocate solo B36, Borac, Sligo, Bala, gol piover, che già paga libidine, ma comunque paga abbastanza. O vi giocate le solite canoniche 2 euro su un tutto gol piover, che comunque ne andreste a prendere, direi, quasi 60. Quasi 60 con 2 o 60 euro libidine. O se no vi giocate 2 no goal più under e 2 goal più over e tenete due le cose separate. O se no mi dite Gigi, no, non rischiamo, non è sicura. E soprassediamo. Concludiamo, ragazzoli, con la bollettina numero 6, che infatti conferma quello che vi dicevo prima, infatti i gol non sono favoriti, però facciamo gol e no gol. Petro Cub, Floriana, 1 più gol. Riga, Darry City, 1 più gol. B36, Borac, 2 più gol. Sligo, Bala, 1 più gol. Con 2 euro se ne vincono 435,16. Con 5 euro, 1087,90. Ma siccome che tutti i gol non sono favoriti, facciamo anche la bollettina con tutto no gol. Petro Cub, Floriana, 1 più no gol. Riga, Darry City, 1 più no gol. B36, Borac, 2 più no gol. Sligo, Bala, 1 più no gol. Con 2 euro se ne vincono 127,41. Con 5 euro, 318,53. Come vi dico sempre, prendete spunto dalle bollettine che vi faccio. Poi createvi la vostra sommisura, magari mischiando i pronostici e scegliendo le quattro partite con quattro pronostici diversi. Non mi copiate al 100% perché, come dico sempre, ho la pelata ma non ho la sfera magica. Non ho neanche la DeLorean per andare nel futuro di qualche giorno, vedere i risultati, tornare indietro, giocarvi con tutti i pronostici giusti in modo che voi possiate vincere, anche io posso vincere. Non ce l'ho la DeLorean. Quindi, per cui, io vi do delle dritte. Poi sta a voi dire, mi piace, non mi piace, la faccio uguale, questa non la faccio uguale, però prendo spunto. Qua non mi va l'over, metto l'under. Qua non mi va il gol, metto il no gol. A Messi l'uno is, non mi puzza, preferisco mettere l'is due, eccetera, eccetera, eccetera. Io vi do le mie dritte. Voi dovete usare la vostra cavessa, come dico sempre. Non copiatemi al 100% se non siete convinti. Se in voce vi fa libidine, mi copiate, la giocate e speriamo di azzeccarla. Perché nel calcio nulla è scontato. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, vado a preparare anche l'ultima serie di partite e la terza bolletta globale del Gigione. Ciao!